Il noi contempla in questo momento storico direi solo l'uomo, solo una specie dell'intero pianeta. Io vorrei estendere lo sguardo a un noi che contempli l'intera biosfera e anche il pianeta Terra, magari quello inanimato che tuttavia serve per mandare avanti tutta la nostra società. Attualmente mi sembra che manchi questa presa di coscienza che non siamo soli e che tutto ciò che l'umanità sta facendo oggi sul pianeta si deve a un delicato equilibrio che mette in gioco un noi molto più vasto e se non ci rendiamo conto che deve essere considerato poi ne facciamo le spese, cioè non è un aspetto solo etico, non è un aspetto soltanto estetico e non è nemmeno un lusso. occuparci del noi, di tutte le altre specie, del resto dell'ambiente del pianeta Terra è qualcosa che semplicemente ci è necessario per continuare a vivere.